buongiorno a tutti ragazzi qui dalla storia di nostri ragazzi oggi ci troviamo al non so se si vede ma andremo al primo mcdonald di roma vediamo com'è noi ci vediamo direttamente la ciao a te ragazzi eccoci questo ma che bello questo è il primo mcdonald di roma ragazzi guardate sembra di stare in strada è il 1986 il 20 marzo ragazzi ci vediamo alle colonnine allora allora ragazzi abbiamo scoperto una cosa stranissima che qui ci sono le aree noi abbiamo l'area 1 ragazzi questo è un hamburger normale abbiamo ordinato nell'area 1 e ora noi abbiamo già dopo pochissimo tempo super veloci ho già preso le cose cominciamo dai comunque ragazzi questo posto è per me il più bello di taglio di taglio ma ecco si vede allora cominciamo a mangiare buona allora ragazzi lui ha finito lui ha finito io ancora no quasi va a double a double ragazzi questo video questa esperienza sta per finire ora vediamo vediamo tutta la vedete vedete il principale ecco questo l'italia quindi ragazzi guardate ragazzi che bello sembra di stare in mezzo alla strada sembra un mcdonald e quindi ragazzi quindi ragazzi quindi ragazzi quindi domani esperienza tutta noi ci vediamo nel prossimo bene grazie grazie grazie